Ue ragazzi, sono Puli in Fiamme e oggi siamo... Oh, cazzo... Eh! Ue ragazzi, sono Puli in Fiamme e oggi siamo in uno Sky Wars dopo un botto di tempo. Eh, sì, sì, sono tornato dopo le vacanze di Natale, ma ho capito, vacanze di Natale, cioè, vacanze di Natale, scusate, ma è così. Eh, comunque sono sugli Arena Craft perché i Dagri e i Glesias mi hanno bannato cattivo, per nome offensivo, quindi... Mi sembra giusto, allora, sono da solo perché, sì, non c'era più nessuno e sinceramente una volta ogni tanto ci può stare a fare da solo. Allora, vediamo di andare a qualcuno, vediamo se mi ricordo come si fa. Non c'è nessuno sopra di te. Certo che va tutto, va tutto bene. Tu non hai sentito niente. No, non farti domande. Tu non hai sentito niente. Leo Cuzzi. Nicoli, non hai sentito niente, proprio. Ta 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 ta, invece hai sentito qualcosa. Mattito! E' morto. Bene. Allora. non è riuscito niente di certo vediamo un po' chi manca così si vede una seda manca Bo2 il best nome on the world bagato allora vediamo un arco no manco più caso via di qui dove e attaccati oddio mio è partito il mouse zio banana spavento e la madonna risale peggio di lì ecco si è la prima partita che faccio sui skywars di sto server non massacra un po' no 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 si ho vinto che culo che culo di merda vabbè dai per perdonarmi ne faccio un'altra a tra poco eccoci vai così vai siamo fuori hai vinto basta abbiamo vinto basta si vede ho vinto basta che razzismo dove è la mia cassa voglio la cassa se qua sopra io me lo sento lo so lo so ecco ti ecco ti non c'è una seda bello wow che fortuna dai due ce ne sono sempre due ho forza un altro vabbè la devi smettere di vangarti la devi smettere queste cose di merda aspetta un minuto vecchio yankee oh ma sei 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 un po' mangio a piedi ok questa mi servono questa la tengo qui 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 ok che disposizione di merda però allora là c'è Carlo Carlo è il nome da un tizio forte quindi dobbiamo aver paura di Carlo Carlo lo so che tu sei una brava persona quindi non mi farai mai ben male faccio così perché non si vaga Carlo ma guarda c'è io come fai a dire che questa faccina è cattiva guarda 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 che bel faccino dolce guarda c'è il faccino dolce dolce dolcissimo oh non fare il fumo no fare pezzo di puttana ok oh cazzo vai Carlo ciao oddio tipo avevo una faccia orribile mi ha fatto pena per un secondo vabbè eh non è molto sicuro questo vallo eh sì eh ma va bene oh oh ops no dibagare così scusate se è un po' moscio ma oddio il commenta vi ma oh devo riprendermi devo riavituarmi poi da solo non è da questo bello c'è c'è oh piccolo uomo yankee ciao ciao buon viaggio eeeh vince attenzione sono troppo forte basta basta ho vinto tutto basta vabbè io vi ringrazio di aver visto il video e sono contento perché la mia texture è piaciuta a qualche quale anche se era un po' una cadettina e minchia sono arrivato a 20 tickets e ne sono molto contento grazie vabbè eh io stacco perché la vita non so vabbè grazie per aver visto il video fate le solite cose commento like bla 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 e ciao a tutti per palazzi